Le risposte sono state un pochino deludenti, ad essere sincera, però il risultato positivo è stato che dopo tre giorni di silenzio, quasi silenzio, siamo riusciti a fare esprimere serie sulla questione. Innanzitutto è emerso ormai chiaramente anche a tutti, insomma, cittadini compresi, che questa è una maggioranza litigiosa e inconcludente. Hanno cominciato a tirarsi gli sfracci l'un l'altro, serie, il PD litigano. Io direi che è la responsabilità di entrambi ed è una responsabilità molto grande perché nel caso questo digestore fosse realizzato veramente da marche e molti servizi ci sarà un indebolimento della nostra azienda privata di Aset veramente rischioso. Quindi il giorno in cui la convenzione per la gestione dei rifiuti urbani tra una decina di anni dovesse decadere, che cosa succederà alla nostra azienda pubblica? Noi veramente abbiamo paura che venga assorbita e anche temiamo che dietro tutta questa manovra che implica insicurezza e ritardi colpevoli da parte di questa amministrazione ci sia anche fortemente la volontà di ampliare la discarica di Monteschiantello. E quindi le due cose vanno a braccetto naturalmente e la ricaduta negativa sarà tutta per i cittadini di Fano che avranno delle tariffe imposte da un privato che intende fare utili e soprattutto perderemo il controllo della gestione e della realizzazione del digestore. Politicamente qual è la forza in questo momento di Seri? Rischia veramente di andare alle elezioni a settembre o avrà comunque l'appoggio del PD? Allora io non credo che si andrà a votare a settembre, sarebbe veramente un insuccesso clamoroso da parte di Seri e da parte anche della sua coalizione perché a distanza di un anno dalle scorse elezioni e far cadere questa giunta sarebbe veramente una responsabilità enorme in un momento poi di crisi di questo tipo perché abbiamo una crisi sanitaria che si sta risolvendo con difficoltà è legata a una crisi economica, abbiamo alle porte, speriamo che non succeda però anche una crisi sociale molto profonda quindi sarebbe un gesto di estrema irresponsabilità. Detto questo è chiaro che il rischio che Seri pur di rimanere lì diventi una marionetta nelle mani del PD che diciamo è la parte forte di questa coalizione c'è e quindi vedremo che cosa succederà nei prossimi quattro anni. Io credo che ci continuerà ad essere purtroppo immobilismo e una città guidata in questo modo poco convinto e soprattutto confuso.